Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video, sono prontissima per truccarmi con voi se avete visto il video precedente dove facevamo gli unboxing di nuovi arrivi, di novità siete nel video giusto perché in questo video le proverò prima di iniziare, se non siete iscritti al canale, rimediate subito inizierei subitissimo con l'applicazione della crema idratante da giorno io utilizzo ormai da mesi la The Make My Day Cream di Epoda che è un brand ispirato a prodotti coreani amo, amo questo brand però sto finendo praticamente tutto quindi ne approfitto e lo utilizzo finché c'è poi hanno cambiato i pack esterni a me onestamente piacevano molto di più quelli di prima, cioè quelli tutti colorati erano molto in stile coreano in questo modo mi sapeva proprio di brand coreano ma poi guardate che carino, troppo tenero con tutte queste scrittine posso dire che passa un po' inosservato perché mi sembra che abbia più un'anima questo che quello nuovo ma questa è la mia unpopular opinion se Epoda mi sta sentendo, I'm so sorry comunque successivamente vado ad applicare io precedentemente ho fatto un po' di sauna facciale vado ad applicare la SPF 50 infatti dovrebbe anche essere bella che scaduta nove mesi ma noi la utilizziamo lo stesso amici perché? perché facciamo schifo non diciamoci cagate perché lo so che anche tu amica a casa stai utilizzando quella cosa che è scaduta io lo so, tu lo sai, lo so io, lo sa Dio perché mi hai rotto il cuore questa di Mulac è fantastica è una SPF 50 si chiama Face Water Gel infatti sembra proprio infatti è parlo in corsivo oggi sembra proprio una crema accusissima che poi che poi va dai amore siamo in diretta poi va a uniformarsi al nostro incarnato e a proteggerci dai dal sole creando proprio un filtro solare perfetto io l'applico in questo modo come vedete è un effetto catarin frangente che io adoro tantissimo questa lucidità che mi dà proprio idratazione durante tutto il giorno anche con i prodotti che vado ad applicare dopo però io l'ho aperta dopo quindi mi sa che ancora non è scaduta si sto trovando scuse ok? voi non siete migliori di me lo so sono sicura che anche voi avrete fatto le vostre cagate don't judge me aspetto che la SPF si concentri sul mio viso e facciano un'unione matrimonica utilizzerò due prodotti che mi stanno piacendo tantissimo che mi hanno fatto fare pace con le mie sopracciglia in parte anche se non sono proprio proprio in pace perché le odio della linea eyebrow il brow seo che è una cera fatta a gel che con questo mini scovolino andiamo ad applicare sulle nostre sopracciglia e le andiamo a fissare mentre con la eyebrow wannabe blonde che è la brow pen che è tra l'altro wannabe blonde ma è molto scura vado poi dopo successivamente a disegnare i miei peletti siccome lo scovolino prende il prodotto e fa questo effettino qua così tipo zucchero filato lo giro mentre tiro su quindi tutto il prodotto lo lascio andare sulle sopracciglia giro e alzo le vado a pettinare ok poi vado a tirare un contorno sul bordo una specie di disegno una linea è una bomba questo prodotto mi piace tantissimo mentre aspetto invece che anche questa brow seo si asciughi e mi fissi i peletti dopo vado a fare a disegnare i vari peletti perché prima mi concentro sul correttore quindi inizio in questa zona così do il tempo a tutti i prodotti di e anche qua sempre di mulac ho tutto mulac no ma non è il mio brand prevedita il dorian concealer che è anche questo strafinito non lo vado a distribuire come correttore illuminante ma solo per andare a togliere questo grigiume ultimamente adoro tantissimo truccarmi in in sala barra cucina perché ho la finestra il finestrone quando arriva la bella stagione mi trucco spesso di là perché arriva proprio una luce filtrata perfetta fa vedere effettivamente com'è il make up al di fuori allora volevo provare il correttore di astra che nei video nel video scorso vi ho fatto vedere l'unboxing questo qua è light coverage long stay concealer lunga tenuta fino a 12 ore 12 la tonalità 2 dovrebbe essere con un sottotono un po' più caldo infatti utilizzo anche questo giusto per andare a vedere com'è perfetto come il dorian concealer di colorazione se non un pelo più scuro è molto molto più consistente come prodotto però si sta sfumando molto bene procedo con la pennina per andare a disegnare le parti mancanti tengo il polso molto leggero e la mano molto leggera ok questa è la sopracciglia fatta e questa è l'altra è molto scura quindi wannabe blonde è per tipo le castane scure passiamo poi a un'applicazione del correttore più chiaro per andare a illuminare questa zona qui una volta io faccio le stesse scene scenate tipo oh mio dio com'è chiaro eh però sono bianca ok si sta mangiando la maggior parte del prodotto la spugnetta vado ad applicare lo 01 che è il transformist foundation e concealer di Astra prima agito ah ok così e poi vado ad uh se non ossida copriremo solo applicando ma wow che coprenza wow oh mio dio raga ma mi copre tutto questo speriamo che non ossida perché una volta applicato sembra del mio colore vi giuro mi sta lasciando a bocca aperta ma com'è bello com'è fine ha ridotto la grana della mia pelle l'ha levigata tantissimo ma wow mi ricorda il Marc Jacobs senza la pesantezza del Marc Jacobs vi ricordate che avevo fatto un video sul fondotinta di Marc Jacobs che avevate fatto praticamente avevate comprato tutta tutto lo stand di Marc Jacobs su fondotinta da quando io vi avevo detto che era perfetto per coprire l'acne coprente uguale ma sottile cioè vi giuro non è per niente grasso spesso oleoso la luminosità che vedete sotto è data dall'SPF 50 che abbiamo applicato prima non penso neanche sia così tanto secco applicato senza SPF o senza idratazione cioè comunque sempre dovete fare una base di idratazione perché bisogna idratarsi però non lo vedo così secco come l'altro pure ha la stessa coprenza ma è meraviglioso vi giuro più lo sfuma più non si toglie di solito quando li continua a sfumare si vanno a a trascinare in via invece lui si è fissato stra stra provato se vogliamo se vogliamo se vogliamo togliere un po' di eccesso in queste zone dove si formano sempre le rughette di espressione ragazzi sono piacevolmente colpita e non so se riuscite ad ammirare questo fondotinta colore è leggermente più scuro voi vabbè adesso non so quanto vediate però io me ne rendo conto perché sono trasparentissima fa niente vi giuro mi sta piacendo tanto ma che coprenza sono meno entusiasta del correttore ma perché forse con l'applicazione della blender non è il massimo il problema è che non ho adesso sotto mano un pennello più piccolo applicato così è meglio ovviamente non ne voglio applicare troppo perché anche qua rughe d'espressione si niente questi prodotti vanno applicati col pennello non usate le blender amici foundation posizionato andrei di huda beauty il nuovissimo cheek tint in beddy berry con il suo pennello che andiamo ad aprire subito oh ma che bello guardate quanto è carino oh ciao due fibre super morbido applicherei direttamente il prodotto così wow ma la scrivenza lo vado ad applicare qua e qua vado proprio a creare lo striscione di rouge sul mio viso sunny baciata dal sole anche un po' ostionata sunny mi piace mi piace questa base mi piace tanto questa base così voglio fare un sun kiss voglio utilizzare anche rebel red meraviglioso meraviglioso qual'era rebel sarebbe bello anche questo raga meraviglioso questo è proprio un colore mattone perfetto per i look asiatici korean peak tint mi stanno piacendo e li approvo qua lo vado a stendere un po' più basso questo vado a fare un po' più di contouring non troppo Non vado a settare niente, vado a illuminare leggermente, ma proprio leggermente Dove sei amico? Dove sei? Dove sei? Dove sei? L'unico amore Oh, rivivrei Sei di vento del nord Sei di nuovo ma non di noi Stessa luna metà Vado a fare un mix di Glow Bunny e... Non mi ricordo il nome dell'altro Comunque sempre, sempre di Mulac Qui, qui Ma leggero, perché non voglio andare di illuminante e rovinare questo look natural, glowing Vado solo ad enfatizzare i punti già più brillanti Estate, primavera Che drama Mi piace Vado a fare anche un po' di ombreggiature Con questo qua di Fenty Beauty, il matchstick in Amber La tonalità praticamente da contouring più fredda E vado a sporcare questa parte del naso per andare a liftarlo E a stringerlo in questo modo E lo stringo anche così Quindi vado a chiudere le due parti Che non tiro dritto Ma le vado semplicemente a stringere in questo modo Camuffiamo il tutto Poco poco Però è per dargli proprio profondità Perché in questo modo non è piatta Qua se si provano i prodotti vanno provati bene Mi spiace Mi mancano i prodotti occhi da provare Che sono di Benefit Con la Rose Quartz di Huda Beauty Utilizzerò Radiate Che è questo colorino qua Giusto per dare solo una base Per non lasciare l'occhio pieno di pieghetti Raga, una roba molto easy, semplice Giusto per, come vi dicevo Andare a provare l'eyeliner di Benefit Prima di andare ad applicare l'eyeliner Mi piace ultimamente Per essere anche più sicura E dargli un effetto un po' più soft Vado a crearla con un colore più scuro Infatti da questa palette Utilizzo Aura e Mantra Procedo con l'applicazione di questi colori È come se stessi già facendo il mio eyeliner La mia riga di eyeliner Così Mi serve sia da linea guida Sia proprio da smokey No? Un po' così sfumato Io ho un peletto incastrato Me lo spiento Vado a sfumare questa stessa linea Che abbiamo creato Sempre col pennello angolato E con Mantra Vado di nuovo a caricare Con l'ombretto Vedete come tira dritto gli occhi? E unisco anche nella parte sotto Vi avevo fatto vedere nello scorso video I nuovi prodotti Volevo provare prima lui Che è il nuovo The Real Extreme Precision Liner Che è un waterproof Anti sbavature Tenuta di 12 ore La punta del pennello È di 0,1 mm C'è scritto proprio qua Questo è l'eyeliner E in effetti la punta è molto fine È super scrivente Super nero Effettivamente è precisa Not bad Per niente Io qua ho un'escrescenza della pelle Che mi fa fare sempre uno scalino E non riesco a colorarlo Allora Vi posso dire Con questa prima applicazione Ho già delle cose da dirvi Mi piace un sacco il fatto che sia bello inumidito Ma non troppo Cioè non è che quando schiaccio la punta Esce il colore Mi va a spruzzare in giro E macchiandomi La formula mi piace Perché essendo waterproof Non è come i prodotti Le formule waterproof Che spesso diventano stile tatuaggio Semi permanente Con quella pellicolina trasparente Invece no Sembra molto naturale La punta è molto fine Però tutto l'applicatore è molto corto A differenza degli eyeliner Che utilizzo di solito A cui sono abituata di solito Che quando vado a disegnare la mia linea Tendo anche a metterla in modo un po' più orizzontale Verso l'occhio Per tirarla dritta Mentre con questo è tutto di punta Guardate Ha provato anche lui Applichiamo il magnet Vediamo l'effetto di ciglia allungate Con effetto magnetico Compia un anno questo bel ragazzo Succede che già all'interno dello scopolino Abbiamo il magnete Mentre stiamo applicando il prodotto Il magnete lavora E trasporta il prodotto all'interno Verso la punta delle ciglia Come vi dicevo prima Viene attratto verso le punte Qui Instagram mi pare di aver fatto due strati o tre strati Lo vado ad applicare anche sotto Ebbene raga Questo è il mio look finito Super naturale Niente di che Vado solo a dare un po' di luminosidad Con sempre gli illuminanti di Mulac Qua nell'angolo interno Oggi sono proprio soddisfatta del make up È semplice Ma super fresco Idratato E applico anche Eye gloss Della linea Psy Gloss di Mulac Guardate che bello Questo effetto plumping È blu Perché sbianca i vostri denti E questo raghi È il look finito I miei capelli fanno schifo Ma cercherò di tenerli così Così sembrano decenti Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi prodotti E io vi aspetto nei commenti E su Instagram E ci vediamo al prossimo video Mua